Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita. Credo che sia importante conoscere e diffondere il giudizio di Massimo Gandolfini sul disegno di legge Zan sull'omofobia e la transfobia. Un disegno di legge che se diventasse legge porterebbe a cancellare duemila anni di cristianesimo, cinquemila e più anni di civiltà. La visione naturale, divina e reale della famiglia, composta di madre e di padre e di figli, porterebbe a finire in prigione a persone che insegnano il catechismo, che leggono la Bibbia e che diffondono la cultura della famiglia secondo il progetto di Dio, il progetto biblico. Vi invito ad ascoltare questo messaggio di Massimo Gandolfini e a diffonderlo. Non facciamoci imbavagliare, continuiamo la battaglia in difesa dei valori della nostra fede, della nostra cultura, della nostra civiltà. Carissimi amici, ho sentito il dovere e la necessità di mettervi al corrente di quanto sta accadendo in queste ultime settimane e mesi. Certamente questa terribile emergenza del virus ha rallentato i lavori parlamentari, però si tratta soltanto di un'attesa, di una diluizione delle date di intervento, ma il problema di fondo non cambia. Vi voglio parlare di un progetto di legge particolarmente dannoso, pericoloso e da un altro punto di vista inutile. Tre aggettivi che poi argomenterò e che riguarda la libertà di pensiero e di opinione dei cittadini italiani. Penso ricorderete tutti che nel 2013 venne fermata al Senato, dopo che era già stata approvata alla Camera, il disegno di legge cosiddetto Scalfarotto, quello che definiva i reati di omofobia e di transfobia, reati che ovviamente richiedevano una particolare attenzione, secondo questi proponenti, Scalfarotto ed altri, una particolare attenzione e ovviamente una particolare sanzione. Quel disegno di legge è caduto, ma oggi sta venendo avanti un altro disegno di legge, cosiddetto 569, chiamato progetto di legge Zanna dal nome del primo firmatario, l'onorevole Zanna. Che cosa si propone questo pericoloso progetto di legge? Propone modifiche all'articolo 604 bis etter del codice penale in tema di propaganda e distigazione a delinquere per motivi di discriminazione raziale, etnica o religiosa e aggravanti, esteso a condotte motivate da homo e transforbia. In altre parole, quello che già esiste oggi di reato definito dal codice penale e da legge ad hoc, di reato contro la persona per motivi, ripeto, di discriminazione raziale, etnica e religiosa, dovrebbe essere esteso anche a condotte che vengono definite di carattere omofobico e di carattere transfobico. In questo mio breve intervento che vi chiederei la benevolenza poi di diffondere, di ascoltare, di farlo proprio e anche di approfondirlo ovviamente, perché questa è soltanto la base, ci sono numerose altre considerazioni che qui non ho il tempo di esporvi, ma almeno la base di diffonderlo e di condividerlo il più possibile, perché questo eventuale passaggio di una legge di questo genere è una legge, ripeto, inutile, pericolosa e dannosa. Argomento queste tre affermazioni. È una legge inutile. Perché è inutile? Perché esistono già due leggi, la cosiddetta legge reale 654 che data 1975 e la legge Mancino, legge 205 che data 1993, che già definiscono il contrasto ai cosiddetti crimini d'odio, cioè atti di discriminazione e violenza per motivi razziali, nazionali, etnici e religiosi. Questo tema, ovviamente di grande valore morale, etico, filosofico, è già molto ben presidiato da queste due leggi, legge reale e legge Mancino. In più c'è un altro presidio importante che se questi crimini d'odio vengono perpetrati per motivi futili, per motivi diciamo futili da una parte, abietti dall'altra, come può essere ad esempio un'istigazione a delinquere o un vero e proprio crimine contro la persona che ha assunto per se stessa, che ha scelto una condotta omosessuale, esiste un ulteriore presidio che è rappresentato dall'articolo 61 del codice penale. L'articolo 61 dice, riguarda le cosiddette circostanze aggravanti comuni, che se poi il reato per crimine d'odio viene perpetrato per un motivo abietto, come potrebbe essere la persecuzione di una persona che ha fatto una scelta di condotta omosessuale, c'è un rincaro della sanzione e della pena. Spero di avervi argomentato sufficientemente e in maniera chiara il perché è inutile, perché esiste già il presidio tanto legislativo quanto giuridico. Perché è pericolosa? Perché questo disegno di legge sostanzialmente viene a configurare, a creare una specifica categoria di persone che sarebbero da tutelare in base al proprio comportamento sessuale, cioè una categoria di persone che scegliendo un comportamento sessuale dovrebbe essere titolare di un particolare privilegio, di un particolare diritto. E questo mi sembra essere in palese contraddizione e violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini, che è stabilito niente meno che dall'articolo 3, niente meno che della Costituzione, che recita, ve lo ricordo, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e, attenzione quest'ultima parte, condizioni personali e sociali. La condizione personalmente scelta di una condotta omosessuale è tutelata dall'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini vengono riconosciuti uguali di fronte alla legge e di fronte alla Repubblica, il che vuol dire che ogni condotta, ovviamente purché non sia criminosa o contraria all'ordine pubblico, è lecita per quanto riguarda l'ordinamento repubblicano e va rispettata. Allora vi pongo una domanda, ma perché un offeso o una violenza a una persona che ha fatto una scelta di condotto omosessuale dovrebbe essere sanzionata in modo più pesante rispetto al medesimo crimine esercitato su una persona eterosessuale? Mi ricordo nel 2013 Piero Stellino allora direttore del Corriere della Sera che ha scritto un bel editoriale con una domanda secca, diretta. Perché un pugno dato a un eterosessuale dovrebbe essere condannato di meno rispetto a un pugno dato a una persona omosessuale? Perché l'omosessualità dovrebbe garantire una categoria valoriale superiore per il quale il medesimo crimine dovrebbe essere sanzionato in maniera più pesante? Ma questo varrebbe anche oltretutto per tutte le altre scelte di condotta personale e sociale. È una legge, vi dicevo, pericolosa. Perché? Perché la condotta sessuale è una libera scelta individuale, personale, privata e in quanto tale non costituisce un valore universale condiviso degno di una speciale tutela giuridica. Sui temi inerenti le scelte di condotte personali e sociali è assolutamente legittima e va assolutamente garantita e tutelata la libertà di pensiero e di opinione. Vi faccio un esempio semplice semplice. Oggi viviamo in un mondo nel quale, come dire, la prestanza fisica, il controllo del fisico è considerato un grande valore, un grande diritto che va tutelato. Bene, ci sono persone che fanno ad esempio una scelta di tipo alimentare, di tipo vegano. Forse non siete al corrente, ma esiste anche una nuova forma di condotta che viene chiamata vigoressia, per la quale ci sono persone che, tenendo in maniera particolare al loro corpo scolpito dal punto di vista muscolare, dal punto di vista estetico, adottano diete iperproteiche che eliminano alcuni alimenti e ne esaltano altri. Benissimo. È legittimo fare queste diete? Certamente. Viene violato qualche articolo del codice penale? Assolutamente no. Ma posso io da libero cittadino dire che non sono d'accordo con una scelta di carattere vegano o di carattere vigoressico? Perché mai dovremmo tutelare in maniera speciale queste persone e a me dovrebbe essere tolto il diritto di esprimere la mia opinione? Questo non fa parte di un paese democratico, perché la scelta vegana, la scelta vigoressica e tante altre scelte, un cittadino in pieno inverno se vuole è libero di andare in giro con i calzoncini corti e la maglietta e la cannottiera. Così come lui deve essere garantito in questo suo diritto, io devo essere garantito nel poter esprimere la mia libera opinione che un atteggiamento di questo genere non lo condivido e anzi lo condanno. Sarebbe quindi gravemente liberale e antidemocratico qualificare una opinione personale di carattere culturale, etico, religioso, pragmatico alla condotta omosessuale come un'istigazione all'odio verso la persona che ha fatto quella scelta. Se io condanno la condotta omosessuale e comunque la ritengo non idonea al mio sistema di valori, non per questo criminalizzo o voglio addirittura istigare al male contro la persona che la scelta. Quella persona è di fronte allo Stato libera di fare questa scelta e io devo essere altrettanto libero di criticare questa scelta. Attenzione amici, condannare un comportamento non significa odiare la persona che l'ha scelto e questo è un passaggio che dobbiamo avere molto molto chiaro. Anzi vorrei essere ancora più chiaro, nessuno deve essere offeso, maltrattato, discriminato nella vita personale, sociale e lavorativa sulla base di come scegliere di vivere la propria affettività e sessualità, salvo ovviamente il caso di abuso di violenza, ma con altrettanta perentorietà va affermato che nessuno può essere obbligato per legge a rinunciare al proprio pensiero e alla sua manifestazione sul tema della differenza dei sessi e della personale visione etica della sessualità e questo è in ottemperanza all'articolo 21 della Costituzione che garantisce la libertà di opinione e la libertà di manifestazione del pensiero. Il terzo aggettivo che ho usato è dannosa, perché è dannosa? Qui parlo da medico, è dannosa anche sotto il profilo del rapporto medico paziente e della libertà di ricerca. Questa legge violerebbe gravemente i principi di libertà di cura del cittadino e di libertà di ricerca scientifica, perché se una persona, un cittadino che ha un disagio personale e si rivolge a uno psicologo o uno psichiatra per essere aiutato nella sua, uso un termine tecnico per dire che sto parlando in maniera rigorosamente scientifica, nella sua egodistonia e quel sanitario operasse in quel senso perché il cittadino liberamente si è rivolto a lui e chiede di essere aiutato, verrebbe assolutamente facilmente esposto all'idea che si tratta di una cura, oggi va di modo a parlare di terapie riparative e io non sto parlando assolutamente di quelle, ma sto parlando molto più semplicemente di un cittadino che chiede personalmente liberamente una sua libera scelta di essere aiutato, benissimo, chi aderisse ad una richiesta di questo genere potrebbe essere facilmente accusato di omotransfobia e quindi perseguito in quel senso. Altrettanto dicasi per la ricerca scientifica, perché questo complesso è una situazione del same sex attraction, delle persone che si sentono attirate verso lo stesso sesso, che ha delle caratteristiche probabilmente genetiche, ormonali, endocrinologiche e diosociali e quindi è meritevole di un approfondito studio perché questo fa la ricerca scientifica, benissimo, questo ricercatore, questo team di ricercatori potrebbe essere altrettanto tacciato facilmente di omotransfobia. In conclusione amici, io penso che l'obiettivo non dichiarato di questo progetto di legge è duplice e lo dico con chiarezza. Primo, ha l'obiettivo di promuovere e tutelare in modo speciale la condotta omosessuale e questo è contrario alla libertà di scelta di cui tanto si parla in questi giorni, addirittura la libertà di scelta al suicidio e verrebbe negata la libertà di scelta di una condotta eterosessuale vista come una sorta di crimine d'odio nei confronti di chi fa invece una scelta omosessuale. Secondo, limitare gravemente e in modo profondamente antidemocratico, vi ho già citato l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero, di educazione familiare e scolastica e la libertà di pensiero religioso su un tema di valore antropologico-etico sensibilissimo come è quella della scelta dell'affettività e della sessualità. È sostanzialmente un vero e proprio tentativo di imporre un pensiero unico con una dittatura di questo pensiero che è profondamente contrario alla democrazia. Vorrei concludere veramente con questo slogan, con tutto il rispetto che si deve ad ogni persona appartenente ad ogni categoria e quindi anche le persone che fanno scelte omosessuali e transessuali, questo non deve significare una limitazione della libertà di pensiero, di opinione e di educazione. Un padre deve essere libero di pensare ed educare i propri figli a condotte che non siano condotte omosessuali. Una persona deve essere libera di manifestare il proprio pensiero su di un tema così altamente sensibile. Un religioso deve avere la possibilità di dire quello che la Bibbia, la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica dice senza per questo incorrere in un reato di omotransfobia e di venirgli tappata la bocca. È per questo che con forza noi lotteremo e agiremo perché questo progetto di legge venga bocciato e che non venga limitata la democrazia del nostro Paese che è costata tante lacrime e tante sofferenze. Quell'articolo 21 gronda sangue. I padri costituenti sapevano benissimo che cosa vuol dire togliere la libertà di pensiero e la libertà di manifestazione del pensiero. Questa è una legge che va esattamente in quella direzione e pertanto deve essere formata perché la dittatura del pensiero unico anche su un tema sensibile come è quello dell'affettività e della sessualità è la fine della democrazia e noi a questo dobbiamo opporci con forza. Hashtag Restiamo Liberi è e vuole essere il nostro appello a tutti i cittadini di buon senso indipendentemente dall'appartenenza politica partitica perché qui è in gioco la libertà democratica, qui è in gioco il fondamento della libertà che è la libertà di pensiero. Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.